E' iniziato il conto alla rovescia per la diciannovesima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo organizzata dall'associazione Amici della Musica preseduta da Francesco Bambina. Abbiamo con noi il presidente al quale chiediamo quanti sono i partecipanti e come si sta muovendo il comitato organizzatore. La macchina è già partita da diverso tempo naturalmente, abbiamo 47 iscritti da 13 nazioni diverse con un gruppo più numeroso proveniente dalla Cina, dall'Argentina e nuove iscrizioni dalla Grecia e dalla Colombia. Chi è il presidente della giuria e se già avete deciso a chi assegnare il premio Città di Alcamo ricordiamo che l'ultimo è stato conferito al presidente della Procura Nazionale Antimafia Franco Roberto. Ottima memoria. E allora la presidente del concorso è Viorica Cortese, mitico mezzo soprano rumeno che poi fuggì dalla Romania durante il periodo di Ceaucescu, quindi ha una storia di vita ma anche una storia del canto perché è stata definita la migliore carmen del secolo XX, quindi del 1900 e nel contempo nell'ambito del concorso internazionale il Consiglio di amministrazione ha segnato, ha deciso di conferire quest'anno due premi internazionali per la cultura città di Alcamo. Il primo ha sua eccellenza reverendissima Monsignor Francesco Cocco Palmerio che è la corrispondenza del ministro in carico del ministro della giustizia dello Stato della città del Vaticano e l'ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, comandante generale della Guardia Costiera e dei Porti di tutta Italia. Quando inizia il concorso e come si articolano le selezioni? Il concorso inizierà il 29 settembre con la fase eliminatoria, poi si passerà alla fase semifinale, sabato terremo la fase finale e domenica alle ore 18.30 al Teatro Cielo d'Alcamo avremo il piacere di raccogliere i nostri concittadini e coloro che appassionati di musica lirica vorranno essere presenti perché l'ingresso è gratuito al Teatro Cielo d'Alcamo per ascoltare coloro che hanno superato, sono arrivati in finale e nel contempo sono, mi auguro, tra i vincitori che avranno un grande futuro nel mondo della lirica.